Allora, questo è il coso che ha fatto Peppi, vediamo. Best of di Lucy Lane, vediamo. Madonna, che volume alto! Ok. Anzi, facciamo così nel caso di Bà. Eh, questo non si può far vedere. Ma che cazzo? Oh, che schifo! Ma dove l'hai presa sta clip? Dove cazzo hai preso sta clip? Dove l'hai presa? Oh, che schifo! Mi ha snaricciato il coso sulla tastiera. E' stato questo momento trash. Mi ha capito così. No, bruttissimo. Ma buongiorno. Occhio al cielo! Se non la ricorda neanche tre periodi... Oh, no! 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 Tira là. E' il centro umano. Ah, ah, ah! Hakuna matata, ragazzi! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Il centro umano ha il 20% di probabilità in più di portarmi a casa. a fine cena. Mi dissocio! Che cazzo stavo dicendo? No, mi dissocio! Che bella cosa! Ti lo giuro. Hakuna matata, ragazzi! Tremendo, tremendo! Eh... Hakuna! Alex! Ti prego! Riproduci Smichin'Pitch! BINCIN'PITCH! 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 Ti prego! Riproduci Smichin'Pitch! Smichin'PITCH! Mi smartlibrach su Amazon Music. Ma quindi non avete sentito niente finora? MELLO! MEGIO! What the fuck? Ma qua! È Matteo! Mi smartlibrach su Amazon Music. What the fuck? Ultimi periodi? È solo per nascondere l'amore che provo per te. Facciamo sesso? Eh... I videogiochi sono i migliori amici dell'uomo. Oddio! Che cazzo? Cos'è? Che cazzo? Che cazzo? Sì, va, sì, cazzo. Sì, va, sì, cazzo. Non era ancora stato pubblicato. Eppure, fui criticata per quella scelta. Viva da piatto caffè, eh! Dai! Applausi! Grazie, grazie! Lucy, grandissima! Hai visto? VINARE! Più veloce! Se no non va la schiuma, cazzo! Mi sta schizzando tutto! Vai! Gira, le cazzo! Perché mi dice sempre così quando passa la carbonara? Schizza! Perché la gente diventa falsa! Peppi, sei super bravo, cazzo! Ma sei super bravo! Mi iscrivo pure, attivo pure la campanella, tutte! Ma sei super bravo! Allora...